Ciao, sono Andrea Pittorino, 11 anni, faccio parte del progetto Leonardo Superstar e faccio Leonardo. Questo film mi è piaciuto sin dall'inizio, quando me l'ha raccontato il regista. Perché oltre ad interpretare Leonardo, che è un bambino del 2014, interpreto anche Michi, che è un bambino del 2084, che sarebbe il nipote di Leonardo che ormai è cresciuto. Il rapporto tra Leonardo e suo nonno è un rapporto veramente stupendo, perché un bambino che passa gran parte dell'estate con suo nonno è una cosa molto particolare, che non è da tutti, soprattutto perché ormai, anche oggi, nel 2014, i rapporti tra i bambini e i nonni sono un po' distaccati. Sono doppiamente stimolato di fare questo film, perché interpretare un bambino del 2084, che ancora non esiste, diciamo che è difficile. E come sarà il carattere di un bambino del 2084? Come sarà il rapporto di un bambino del 2084 e di il suo nonno? Poi, alla fine del film, torniamo nel 2084, dove con il grande effetto speciale, con il gran colpo di scena fino a... Ops!